E nonostante le difficoltà anche quest'anno l'USD Cellatica organizza la settimana dello sportivo la tradizionale festa estiva che anima le serate bresciane con musica, spettacoli e sport l'obiettivo spiega lo storico presidente e anima della festa Dino Della Fiore raccogliere fondi per le attività di promozione allo sport dei giovani ecco spiegato perché la settimana in realtà quest'anno sono due settimane e un pezzo 18 serate per la precisione a partire dal 12 fino al 29 giugno presso il campo sportivo di Cellatica è la 39esima edizione che facciamo e abbiamo fatto veramente una cosa un po' fuori dal normale in questi tempi così diciamo di difficoltà abbiamo riuscito a mettere in piedi una settimana sportiva che dura 18 giorni una cosa un po' anomala però è perché le società come tutte che sono in provincia hanno bisogno di essere supportate un po' dalla quella liquidità che manca e abbiamo provato a vedere se con queste 18 serate possiamo raccogliere qualcosa giustamente per fare lo sport per i giovani sportivi di Cellatica anche quest'anno promette dalla fiore non mancheranno serate di musica danza e divertimento con Charlie Andecchezzo, Marco Dazzi, Michela Bosio e ancora da Zelig e Colorado Giorgio Zanetti, Daniele Racco, Carlo Bianchessi ma anche tanti e veramente tanti altri per garantire ogni sera uno spettacolo per tutti i gusti Abbiamo toccato un po' tutti i settori abbiamo delle orchestre grossissime da Omar a Rossella Perrari ci sono tantissime da Pierrot queste che sono le orchestre sono sempre delle migliori poi abbiamo portato praticamente una serata di cabaret molto bella di cinque comici c'è un gran varietà c'è di tutto c'è Zilli, c'è Colorado, c'è addirittura Ventiloco c'è un mago, c'è un po' di tutto poi abbiamo fatto anche delle serate dove vogliamo fare divertimento i bambini abbiamo fatto i piccoli, proprio i piccolini, la festa dei piccoli facciamo anche quella poi abbiamo fatto delle serate di ballo latinoamericano abbiamo toccato tanti vari, veramente tanti vari per cambiare un po' le persone giustamente perché tutte le serie sia sempre quel genere di musico, quel genere di spettacolo abbiamo cercato veramente di fare il più possibile diversificarlo per dare la possibilità a tutti di vendita cellatica